salve a tutti ragazzi e bentornati in questo nuovo video del gobo toscano il gobo toscano scapigliato stamattina non mi stanno in nessun modo a pelli codino parte da una parte all'altra ma va bene chi se ne frega chi se ne frega noi siamo qua a dirvi un paio di informazioni sul calciomercato poi oggi ci saranno diversi video molto molto interessanti uno riguarderà anche lo sponsor lo sponsor della juventus il nuovo sponsor della juventus ma prima di tutto buongiorno 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 a tutti spero che abbiate passato un buon inizio settimana oggi è l'ultimo giorno di luglio e quindi vi chiedo l'ultimo sforzo l'ultimo sforzo nel mese di luglio iscrivetevi al canale del gobo toscano lasciate un bel mi piace commentate il video condividetoli attivate la campanella delle notifiche in più andate in descrizione ci sono i link del secondo canale che si chiama calcio news 24 iscrivetevi anche a quello c'è il link del nostro sito web a tutto calcio.com andatevelo a vedere tutti i link e i collegamenti ai nostri social media quindi mi raccomando non fatevi scappare nulla detto questo detto questo oggi o come primo video di giornata vorrei parlarvi proprio di tutto il calciomercato perché giuntoli cristiano giuntoli li ha fregati tutti dal primo all'ultimo allora perché li ha fregati tutti ha fregato tutti chi ha fregato penso tutta la stampa tutta la stampa e l'informazione italiana ed estera perché perché un giornale fa il nome di Galeno vi faccio un esempio per l'attacco un giornale fa il nome di Adeyemi un altro giornale addirittura dice no Adeyemi no semmai solo in prestito l'altro giornale dice 40 milioni per Adeyemi poi arriva l'altro su Conseil Sao poi improvvisamente si parla di Copminers si Copminers sfuma Copminers solo a determinate cifre per la difesa addirittura c'è chi mette in dubbio l'arrivo di Todiboh quando invece fino a qualche ora fa era tutto fatto ecco giuntoli li ha fregati tutti giuntoli è riuscito a creare più panico nei giornali veramente delle prossime elezioni americane cioè ha creato un hype intorno alla Juventus clamoroso cioè ogni giornale sportivo io sono andato a vedere anche i giornali sportivi esteri parla del calciomercato della Juventus e degli obiettivi della Juventus alcuni in modo positivo altri in modo negativo ma non importa quello che ha fatto giuntoli è stato far uscire delle notizie semplicemente per far chiacchierare di tutto e di più e lui possa tranquillamente lavorare sui suoi obiettivi allora io cercherò di farvi un riassunto di quello che è a nostro parere la realtà dei fatti e come stanno le cose sia sugli acquisti sia su le sessioni sia sulle chiacchiere partiamo da il giocatore che la Juventus ad oggi ritiene fondamentale e continuiamo a ribadirvelo che si chiama Copp Miners Copp Miners è un giocatore puntato dalla Juventus come futuro perno della squadra futura stella perché non è una stella ma quel giocatore che riesce a mettere d'accordo tutti e a mettere insieme tutti i reparti quindi Copp Miners ovvio l'Atalanta vuole tanto ma alla fine da quello che arriva a noi la Juventus riuscirà nell'arco di questi giorni a presentare l'offerta e riuscirà molto probabilmente a mettere questa ciliegina sulla torta ecco la ciliegina sulla torta che sarà proprio Copp Miners tanti di noi ci aspettavamo io compreso come ciliegina altre cose vi dico la verità perché a me io sono uno di quelli che Copp Miners 55-60 milioni lo vede troppo cioè vede che il costo è veramente troppo la Juventus ha deciso questo saprà le sue motivazioni avrà le sue motivazioni e saprà il perché ha fatto di tutto e farà di tutto fino alla fine per portarsi a casa Copp Miners ovvio ragazzi che bisogna sempre dire che se l'Atalanta domani ti cambia le carte in tavola un'altra volta non credo la Juventus continui ad andare dietro ai giochi al rialzo dell'Atalanta ma pare che fino a 55 milioni la Juventus si possa spingere tra bonus e parte fissa e che l'Atalanta accetterà quell'offerta e non vorrà tirare fino ai 60 questo è quello che arriva ad oggi su Copp Miners passiamo al discorso esterno d'attacco l'esterno d'attacco per la Juventus la prima scelta in questo momento è ad Ejemi ma non è escluso che se anche lì il Borussia Dortmund dovesse rompere troppo per il discorso del prestito non ci bastano i soldi del riscatto e quello e quell'altro allora la Juventus possa virare su qualche altro giocatore chi è quest'altro giocatore? può essere tranquillamente un Nico Gonzalez se ve lo dico perché mi sono informato molto stamattina, ieri sera e Nico Gonzalez ha un costo del cartellino elevato una quarantina di milioni ma puoi abbassare il costo con l'inserimento di qualche contropartita ma parliamo sì di McKennie ma la pista McKennie è molto fredda sulla Fiorentina con Rugani non c'è niente Rugani non vuole andare alla Fiorentina e la Fiorentina difficilmente potrebbe prendere dei giocatori della Juventus dopo Ken per il discorso tifoseria eccetera però ci sono dei giovani dei giovani che fondamentalmente alla Juventus non hanno mai giocato perché sono andati in prestito da destra a sinistra e quindi non avrebbero neanche tutta questa risonanza mediatica però servirebbero semplicemente per abbassare il cartellino del giocatore quindi a Dejaim in Pol ma anche lì occhio alle pretese del Borussia ricordiamoci sempre di non dimenticare che il porto ha questi due attaccanti esterni che si chiamano Conseisau e Galeno ma ad oggi vi dico la mia su Galeno non ho riscontrato aperture da parte del porto in un prestito ma le ho riscontrate per un Conseisau quindi ad oggi quello che può arrivare alla Juventus tra i due per come la vedo io è proprio Conseisau però ripetiamo queste sono sempre le alternative a Dejaim oppure oppure può essere una doppietta perché se prendi a Dejaim e vai a sostituire l'esterno ma contemporaneamente anche Vlaovic e poi anche perché fa anche l'attaccante centrale a Dejaim puoi anche prenderli tutti e due quindi uno che ti faccia fascia e centrale e uno che ti faccia solo fascia tenendo ovviamente Vlaovic e in caso trattenere anche Arcadius Milik perché Milik è sul mercato ma si sta valutando la sua posizione e siccome la Juventus non ha attaccanti che facciano al caso di Tiago Motta e al gioco di Tiago Motta è probabile che un Milik dato l'ingaggio comunque normale quindi congruo rispetto agli altri giocatori possa per un altro anno rimanere alla Juventus vediamo come si evolveranno se arriveranno delle offerte interessanti se non arriveranno offerte interessanti ovviamente la Juventus non lo regala questo è quanto anche perché comunque Moise Ken l'hai già dato via adesso gli attaccanti hai solo Milik e Vlaovic gli attaccanti centrali quindi anche se ti arriva una dei Emi una dei Emi può fare benissimo la fascia può andare a sostituire l'attaccante quando uno dei due è squalificato e quell'altro sta poco bene però se no te lo tieni sull'esterno sulla corsia esterna in più potresti avere un Concei Sao come rincalzo a un Hildiz o a una dei Emi sulla corsia opposta vediamo vediamo quello che succede ma l'ultima notizia l'ultimo aggiornamento è che se dovesse partire Milik probabilmente la Juventus andrà su Retegui su Retegui perché? perché se voi mi dite non è buono e costa troppo Retegui lo prenderei solo a determinate cifre ecco ma l'asse Juve Genoa è ottimo a livello di rapporti è ottimo in più il giocatore guadagna poco come ingaggio e quindi è perfetto per la Juventus risponde alle caratteristiche che vuole Tiago Motta lì davanti e in più la Juventus può abbassare le pretese del Genoa sia con un pagamento dilazionato sia inserendo Muaremovic nella trattativa ve l'abbiamo detto anche ieri poi in pochi di voi hanno guardato il video si vede non era di vostro interesse ma ve lo riportiamo anche oggi quindi questa è la situazione Giuntoli ha fatto di tutto e di più ora sento già delle critiche il mercato è partito bene a giugno si è fermato a luglio siamo d'accordo sono stati commessi degli errori di valutazione perché si pensava che alcuni giocatori potessero essere messi fuori il prima possibile vedi il caso Chiesa McKennie Arthur Szczesny ce ne sono tanti no? sono tutti Kostic proprio lo stesso Milik quindi diciamo che la situazione è rallentata proprio per una difficoltà a reperire altri soldi ovvio oggi hai venduto comunque c'è stata l'ufficialità ieri nella tarda serata di Sule e Hoisen ci sono già le cifre quindi è già tutto arrivato nelle casse la parte di quest'anno della Juventus e quindi già ci sono questi ipotetici milioni da poter reinvestire ecco che a sto punto io credo però che ripeto per come la so io il primo pallino sarà puntellare la difesa c'è Todiboh Todiboh secondo me da quello che continuo a sentir dire Todiboh è quel giocatore che la Juventus ha già fondamentalmente blindato subito dopo ci sarà l'assalto a Cop Miners e in ordine poi si arriverà a definire anche l'attacco della Juventus ragazzi ditemi la vostra ma giuntoli secondo me sta facendo un lavoro che può sembrare fatto male ma sotto sotto lo sta facendo senza che tutti gli possano rompere le scatole lui è lì che lavora i giornali parlano ogni giorno sparano un nome diverso e lui intanto sa quali sono i suoi obiettivi e va dritto per la sua strada fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate mi raccomando iscrizione like condivisione attivate la campanella delle notifiche fino alla fine Forza Juve fino alla fine Gobo Toscano perché il Gobo Toscano siete tutti voi ragazzi un buon inizio della giornata e ci vediamo molto presto con un altro video ciao